Un'altra auto che imbocca contro mano la superstrada, uno schianto terribile, per fortuna senza morti ma con cinque feriti. Poteva avere conseguenze tragiche. L'incidente è avvenuto venerdì sera sulla strada statale 379 alla periferia di Brindisi, all'altezza del Bosco del Compare. Un'auto con a bordo due anziani, che aveva imboccato contro mano la carreggiata Sud, si è scontrata frontalmente con un veicolo con a bordo tre persone provenienti da Napoli, la famiglia di un nuovo calciatore del Brindisi. Alcuni degli occupanti sono rimasti incastrati nelle lamiere ed è stato necessario per estrarli l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con due squadre, tra cui un autogru. I feriti sono stati trasportati con tre ambulanze del 118 all'ospedale Perrino. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Il traffico in direzione della circonvalazione di Brindisi ha subito forti rallentamenti, con code lunghe sino a due chilometri. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale.